Aveva nella pancia circa 200 grammi tra eroina e cocaina, ma è stato scoperto e arrestato dalla squadra mobile della questura di Arezzo guidata da Francesco Morselli. L'uomo, un 31enne nigeriano, era appena arrivato in città da Napoli, presumibilmente, per rifornire le piazze aretine. È stato fermato dai poliziotti perché sospettato di essere un corriere della droga. Un'ipotesi che ha avuto conferma una volta portato all'ospedale San Donato di Arezzo, dove il giovane è stato sottoposto ad una radiografia. Il 31enne aveva ingerito 20 ovuli di droga, 10 di eroina ed altrettante di cocaina, stupefacente che avrebbe potuto fruttare qualche migliaio di euro. Per lui è scattato l'arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un arresto che arriva nemmeno una settimana di distanza dall'operazione Duomo Vecchio, a conclusione della quale erano finiti in manette 41 spacciatori. Il parco del Pionte è ancora un sorvegliato speciale da parte delle forze dell'ordine e con esso anche Campo di Marte, impegnati non solo gli agenti della Polizia di Stato ma anche quelli della Polizia Locale di Arezzo.